Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata da Computer Museo In questa puntata volevo spiegare su come inserire un conto bancario sul nostro account Google AdSense Allora innanzitutto dovete andare sempre su www.google.com slash AdSense e aprite il vostro Google AdSense In caso che non l'avete fatto e non vi siete ancora registrati guardate i miei video precedenti che trovate di sicuro anche la guida per aprire Google AdSense Invece per chi deve solo aprire l'account Google deve fare in questo modo e quindi deve solo mettere il suo conto corrente Deve fare allora innanzitutto in impostazioni e premere pagamenti Una volta si aprirà con una logia pagamenti che io non posso farvi vedere Però andate in impostazioni pagamento e qui fate aggiungi una nuova forma di pagamento Qui dove sto mettendo in questo momento le X dovete inserire il vostro IBAN della vostra carta di credito Che io vi consiglio la Genius Card della Unicredit Perché se siete under 30 cioè se avete meno di 30 anni non pagate niente Neanche il bollo all'anno o il mensile quello per tenere una tessera di 3 euro Ma resta gratuito Allora qui scrivete l'IBAN della tessera No scusate qui dove scusate Dobbiamo scrivere esempio Fabio Bobo Esempio dovete scrivere il nome del titolare della carta di credito Qui sotto dovete scrivere l'IBAN dove sto facendo io in questo momento Che è quella sorta di numero con intestazione e roba del genere Poi il BIC dovete inserire qui Praticamente qua sotto dove ho messo adesso l'X Il BIC praticamente lo trovate di solito insieme alla tessera che vi danno Quelli della banca vi dovrebbero dare un tesserino con su scritto già tutto Numero del conto, l'intestatario del conto e il codice BIC Una volta fatto farete salva Vi arriverà un'email di conferma che praticamente avete inserito il vostro account Quindi la vostra forma di pagamento E una volta fatto tutto questo Nei prossimi 2 o 5 giorni lavorativi vi dovrebbe arrivare un piccolo accredito Che voi dovrete andare a inserire Una volta inserito tutto quello il vostro account sarà pronto E quindi sarete pronti a ricevere soldi Grazie a tutti per aver visualizzato questo video Ci rivediamo alla prossima puntata da Computer Museo Ciao